Steve Rosenberg e Carl Jun sono due pionieri. Ci hanno insegnato come usare i linfociti ingegnerizzati per curare i tumori. Questa è una strategia terapeutica che sta crescendo, che ha già dimostrato di essere efficace per un piccolo gruppo importante di tumori, ma che piano piano stiamo imparando adattare a nuove malattie. È un premio che dà speranza a tutti noi ricercatori e ai malati. Io mi occupo da molti anni di immunoterapia dei tumori con linfociti ingegnerizzati. I primi studi clinici sono degli anni 90, quindi abbiamo davvero percorso una strada. Stiamo oggi assistendo e partecipando a questa nuova fase nella quale le tecnologie ci aiutano a disegnare dei prodotti cellulari terapeutici sempre più efficaci e sempre più adatti a ogni tipo di tumore. Questo premio è veramente importante per tutti noi perché apre e fortifica la possibilità di istituire delle collaborazioni con centri di eccellenza internazionali, con questi centri in particolare, in modo da poter avere scambi scientifici e culturali importanti per noi e per i nostri giovani ricercatori.